Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità domani, giornata internazionale dei diritti delle donne in centro dalle 10 alle 14, è in programma un corteo indetto dal movimento Non Una Di Meno contro ogni forma di violenza di genere. Il corteo di domani partirà da Piazzale Ugo Lamalfa e arriverà a Largo Bernardino da Feltre passando lungo Via del Circo Massimo, Viale Aventino, Piramide e Via Marmorata, Ponte Sublicio, Porta Portese e Viale Trastevere. Durante la manifestazione saranno deviate o limitate 23 linee tra bus e tram.